Altra azione della Virtus Castelfrentano sempre nell'area di rigore avversaria. Rete, rete, rete ha segnato Matteo, Matteo ha realizzato di testa la seconda rete a nostro favore. Virtus Castelfrentano 2, Sporting Altino 0. Ecco, vedete l'esultanza dei nostri tifosi. I nostri tifosi 2 a 0. I nostri ragazzi stanno conducendo in questi primi dieci minuti del secondo tempo per 2 a 0. Il primo tempo è terminato 1 a 0 e il secondo dopo pochi istanti di gioco c'è stata la seconda rete. Ecco, ripartono i nostri. Ecco, una palla a Fionda si porta il nostro. Per poco, per poco non faceva un pallonetto. Per poco, per poco non faceva un pallonetto.